Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi, soluzione l'ipnosi di CS, vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad una signora che mi parla, che mi chiede, mi scrive, dottore, mio figlio di 14 anni ha paura di andare dal dentista, cosa posso fare? Le ho provate tutte, tutto di più, non vuole saperne, eppure ha i problemi dei denti, ogni volta è un calvario. Non so più dove sbattere, ho visto i suoi video, ho letto dei libri e si dice che con l'ipnosi e soprattutto l'ipnosi di CS, vera e professionale a V maiuscola, può eliminare questo problema, la paura di andare dal dentista. Bene, cara signora, rispondo anche a tutti voi che mi ascoltate, non esiste tecnica superiore all'ipnosi di CS, vera e professionale con la V maiuscola in tutto il mondo, perché anche se il ragazzo, chi per lui non vuole o non può essere aiutato né online né dal vivo, esiste un audio molto potente, creato ad arte, ad hoc, con parole semplici, pulite, naturali, ma intrise di un antico saperi che sfiora un secolo, direttamente a Los Angeles Baby Hills dal titolo No Paura del Dentista. Per cui basta seguire le istruzioni molto facili, la prova di un nonno, la prova di un piccolo, la prova di un idiota e tu vedrai scintille il tuo ragazzo, chi per lui non avrà più paura di andare dal dentista. E la prova del nove, se rifletti, in tutti gli ospedali del mondo si usa l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola per l'anestesia per le persone intolleranti ai farmaci, per cui se può eliminare il dolore per operazione di alta chirurgia, immagina cosa può fare per una paura del dentista, non parlo neanche del dolore, del trapano, la paura del dentista, ok? Ma sono paure grandi quanto una montagna per chi le subisce. Fammi tutte le domande del caso, il metodo di CS è l'unico che puoi utilizzare per chi non vuole o chi non può essere aiutato in nessun senso, neanche nello stesso mondo dell'ipnosi non puoi fare nulla se non c'è la volontà o l'autorizzazione della persona, neanche a fin di bene sotto la tua responsabilità. Fammi tutte le domande del caso, risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com La mia fanpage su Facebook, ipnosi, ho avuto ipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti perché può essere quel kid o quella molla che gli può cambiare la vita, seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, un bacio, un abbraccio amico mio, amica mia, alla prossima, ciao!